Quando in una città i poveri e i deboli sono curati, soccorsi e aiutati a promuoversi nella società, essi si rebellano il tesoro della Chiesa. È un tesoro nella società. Invece, quando una società ignora i poveri, li perseguita, li criminalizza, li costringe a maffiarsi, quella società si impoverisce fino alla miseria, perde la libertà e preferisce l'aglio e le cipolle della schiavitù, della schiavitù del suo egoismo, della schiavitù della sua pusillanimità e quella società cessa di essere cristiana. È l'esame di coscienza proposto ai cristiani di Roma dal loro Vescovo Papa Francesco nell'Omelia dei primi Vespri della Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, celebrati nella Basilica Vaticana nel pomeriggio dell'ultimo giorno del 2014 e conclusi con l'inno del Tedeum. Il Papa ha ricordato che le gravi vicende di corruzione emerse di recente richiedono una serie e consapevole conversione dei cuori per una rinascita spirituale e morale, come pure un rinnovato impegno per costruire una città più giusta e solidale. La liturgia, ha spiegato Francesco, ci invita oggi a lodare il Signore e a chiedergli perdono. Gesù ci riscatta dalla schiavitù, ha aggiunto, ma dobbiamo domandarci se viviamo da figli o da schiavi. Questo perché abbiamo paura della libertà che ci pone davanti al tempo e di fronte alla nostra responsabilità di viverlo bene. Al termine della celebrazione, il Papa ha visitato il presepe allestito in Piazza San Pietro e si è poi fermato a salutare molte delle persone presenti.